Slavk e Giulietta sono genitori apprensivi, ma la prima uscita del loro primo nato non è sfuggita alle telecamere posizionate nel bosco dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato, che seguono l'evoluzione di questa famiglia, insediata ormai da qualche anno sui monti dell'Alessinia passo passo. E alla fine la caparbietà è stata premiata da questi pochi fotogrammi catturati dalla fototrapola che ritraggono il cucciolo uscire dalla tana e avventurarsi in una breve passeggiata solitaria. La presenza dei lupi va infatti strettamente monitorata e questa non è la prima cucciolata nata dall'incrocio del lupo Slavk e della lupa veronese Giulietta. Ora bisognerà verificare se ci siano altri fratellini dentro la tana, ma per questo ci vorrà ancora un po' di pazienza. Intanto la presenza dei lupi anima anche gite e passeggiate a tema, come quella realizzata pochi giorni fa da Lega Ambiente, lupi e formaggi in alpeggio lunga una delle dilettrici più frequentate dal branco di lupi dell'Alessinia.